Trasportava, occultati in un doppio fondo ricavato nelle pareti del bagaglio, oltre 11 chili di eroina purissima. Per questo, un narcotrafficante pakistano proveniente dalla Eore, via Dubai, Emirati Arabi, è stato arrestato all'arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Appena sbarcato dall'aereo, l'uomo è stato fermato per controlli delle fiamme gialle del gruppo di Fiumicino. Alle prime domande dei militari, stando a quanto riferito dalla GDF, il pakistano, di cui non sono state rese note le generalità, ha risposto ostentando sicurezza, e senza tradire alcuna agitazione, ma, a seguito di un accurato controllo della valigia, è stata quindi scoperta la presenza dell'eroina ingegnosamente occultata in un doppio fondo ricavato nelle pareti del bagaglio.